I componenti dell'ala napoletana della compagine politica Noi con Salvini hanno dato vita a una manifestazione in piazza Carità contro il decreto Cirinna e per manifestare la propria contrarietà alle adozioni gay. Attivisti hanno distribuito cartelli e palloncini a tutela della famiglia naturale e hanno annunciato la nascita di un osservatorio sui minori. Ascoltiamo il componente di Noi con Salvini Gianluca Cantalamessa. Contestiamo il DDL Cirinna non perché non abbiano diritto le coppie omosessuali ad avere le stesse tutele di una coppia normale ma perché qui si crea un precedente pericolosissimo perché spossa i bambini da soggetti di diritto a oggetto di diritto di terzi. E questo è un principio che non può passare. Si discuta delle unioni civili ma si lascia da parte il discorso dei bambini perché non possono perdere la loro titolarità del diritto. Annunciamo la presentazione che ci sarà a febbraio del Dipartimento Nazionale del Movimento Noi con Salvini dell'affido minori e della gestione delle separazioni perché anche lì viviamo l'assurdo che i diritti dei bambini passano in secondo piano rispetto ai diritti dei separati. Della serie semplifico se un genitore paga quello che deve ha diritto a vedere il figlio oppure no. Il diritto del bambino a vedere i genitori passa in secondo piano. Noi per tutto questo dobbiamo provare a combattere.